Rimane sempre molto incerto il futuro della fiume freddese. La squadra giallorossa ancora non può avere chiaro quello che sarà il progetto per la prossima stagione. Il gruppo dirigente storico, capitanato da Angelo Logiudice e Salvatore Zingale, rimane deciso a passare la mano. Nessuna trattativa concreta, però solo qualche sondaggio. Il pericolo maggiore è che il titolo di promozione possa lasciare Fiume Freddo di Sicilia, un pericolo in realtà molto concreto. Un ciclo si è concluso, adesso bisogna capire se ci sarà la forza e la voglia di aprirne un altro. Al momento la situazione rimane molto nebulosa.